un saluto agli amici della casa chiave di milano oggi abbiamo fatto chiave che telecomando nuovo due tasti dacia sandero ecco qua andiamo si è chiuso perfetto aperto vediamo se c'è un motore e vola alla grande perfetto chiavi per dacia sandero 2019 con telecomando fatto in pochi minuti casa della chiave milano number one a 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